Suona la sirena, però non è la contraerea, ma l'allarme degrado. Sembra di essere a Beirut dopo un bombardamento, invece ci troviamo alle porte di Vicenza, è quello laggiù, è l'hotel Europa. Eccolo qui, avrebbe potuto diventare un hub, un ricovero per migranti, ma dopo la ribellione dei cittadini, oggi il sindaco di Vicenza porta buone notizie, la proprietà ha assicurato che diventerà un albergo a quattro stelle e c'è chi grida addirittura al miracolo. Un miracolo direi, no? Che dici? Sono contenta che sia un hotel di lusso di quattro stelle, proprio anche per portare viva città, nuovi clienti a Vicenza, che secondo me ne ha veramente bisogno, e soprattutto anche l'attività delle zone che venga appunto valorizzate. Noi siamo molto contenti perché, come dicono qua, la proprietà ci ha annunciato che farà un albergo a quattro stelle e quindi, se questo è vero, per noi è la rinascita di questa zona. I cittadini e i residenti esultano perché se qui fosse arrivato un hub, molte attività se ne sarebbero andate, abbandonando definitivamente il quartiere. È un miracolo perché la nostra intenzione se non era quella di spostarci, ma così sicuramente avrebbero fatto tanti altri, non c'è ombra di dubbio. In effetti nei mesi scorsi noi di Rete Veneta abbiamo raccontato le paure, la ribellione della gente, la rabbia dei commercianti contro l'ipotesi che l'ex hotel potesse diventare un hub per cui i cittadini avevano raccolto la bellezza di 1800 firme. Io ho visto persone che quando venivano qua a firmare non è che mettevano una firma, ma con quella firma mettevano il loro disagio per questa zona che è in queste condizioni, mettevano le loro paure, le loro ansie, le loro insicurezze per un territorio che non era più sicuro. Eppure, anche senza hub, oggi il quartiere rimane ugualmente ostaggio dei furti, del degrado, con questi edifici abbandonati che sono e restano un cumulo di macerie e sporcizia. Almeno ci fossero degli ostacoli al degrado. Guardate invece, c'è il cancello aperto in modo che i senza tetto, i disperati che cercano un ricovero provvisorio possano entrare comodamente senza dover neanche scavalcare la recinzione. E poi un buco sulla rete in modo che a lei si possano accomodare senza tanta fatica. E qui addirittura la rete non c'è proprio, tanto arrivati a questo punto, a che serve? Eccola qui, la montagnola del degrado, in vetrina, proprio davanti a uno degli accessi principali alla città, l'uscita della tangenziale. Vengano turisti, vengano e vedano! Questa è la porta ovest della città, non è un bel vedere. È vero, c'è la mostra del Van Gogh, però per arrivare in Piazza dei Signori bisogna passare attraverso queste che sono le macerie che sembrano di fine guerra. Abbiamo nulla perché è abbandonata un po' dall'istituzione, ma se incominciamo a mancare noi, poi chi aiuta Vicenza?